Grazie. La creazione Valentino è come un libro che cambia di capito dopo capito, ma i leader sono sempre stessi. Penso che i vestiti parlano per loro, ma in quanto riguardano Valentino. Il rosso, il rosso e il bianco, il silhouetto, il femminile, il romanzo, il sexismo. È tutto su Valentino. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.